Buongiorno a tutti amici di YouTube da Sandro. 4 marzo 2023. Mi trovo all'interno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oggi è una giornata speciale, importante, alla quale sono molto legato e mi è dispiaciuto in passato di non aver concluso i miei corsi di laurea e vedendo che c'è questa possibilità di potersi iscrivere ancora perché mi viene sempre richiesto viene voglia di continuare a studiare quello che ho lasciato tanti anni fa che lo farei solo per un mio obiettivo personale. Oggi è la giornata dell'Open Day e rappresenta la presentazione di tutti i corsi di laurea triennale magistrale qui all'interno. Questi sono i porticati dove ci sono tutti i vari banchetti con tutte le loro informazioni per i vari corsi. vi faccio vedere questa è la bacheca che indica informazioni alle iscrizioni e quanto costa studiare in cattolica. Diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta qui c'è l'accesso a tutte le aule di tutti i vari corsi. Ecco ancora un altro cartello che indica 4 marzo Open Day lauree magistrali non bisogna mai perdersi d'animo e non c'è età per concludere i corsi di laurea chissà se riuscirò a farlo in futuro questo è il mio sogno che non ho terminato tanti anni fa però c'è sempre tempo bisogna essere fiduciosi anche in questi casi vi saluto da questo YouTube di Sandro